Questa è la mia pasta madre rinfrescata, adesso la lascio, la porto a raddoppio, ci durano 3-4 ore. Prepariamo l'impasto, ho preparato 400 grammi di acqua, poi vediamo quanta mi dira questa farina, comunque ho messo 150 anche di zero per alleggerire un pochino. Faccio girare la planetaria, metto un cucchiaio scarso di olio e lo stesso sale, non metto mai tanto sale, io voi fate come volete, io preferisco un pochino sciato. Ok, facciamo girare la planetaria fino a incordatura, una quindicina di minuti. giriamo ancora, eccolo qua, direi che è pronto. Ho oliato un contenitore, faccio prima riposare un pochino l'impasto, 10-12 minuti. Poi faccio delle pieghe direttamente in ciotola e poi verso l'impasto nel contenitore lo tengo un pochino a temperatura ambiente, un'oretta, poi lo metto in frigo, questo perché con i tempi adesso non mi trovo a sera, altrimenti dovrei alzarmi di notte per fare la formatura. Infilo l'impasto in frigo e lo tengo fino a domani mattina. Naturalmente potete benissimo cambiare i tempi, lavorare l'impasto la mattina e fino alla sera avreste anche il tempo di infornare diciamo. Per questo dovete sempre regolarvi con i vostri tempi e con la temperatura. Adesso per esempio sta facendo caldo, non lo posso lasciare fuori. Ecco il nostro impasto la mattina dopo. Vedete com'è cresciuto, adesso lo tengo un'oretta fuori per farlo acclimatare. A dopo. Eccoci qua. Ora procedo per la formatura. Ho infarinato un pochino il piano di lavoro, allargo un pochino l'impasto, senza toccarlo tanto. faccio soltanto un giro di pieghe, lo lascio 15 minuti, 15-20 minuti e poi lo riprendo. ne faccio soltanto un giro di pieghe perché comunque vedo che è lievitato molto bene, poi è stata tutta la notte in frigo, ma se serve potete farne anche di più. Io adesso vedo così, poi vediamo come viene il pane. E niente, adesso procedo per la pezzatura. Farò tre sfilatini, quindi adesso procedo un pochino e lo taglio. preparo una teglia con un telo sopra, perché poi li metterò in un pochino e lo taglio. in forno tutti e tre, quindi li separo con il telo. Allora li allungo un pochino, li pirlo, senza lavorare proprio tanto, li arrotolo così. Intanto poi dovranno ancora lievitare, così una leggera pirlatura, li arrotolo su se stessi e basta. Li appoggio sul telo. e poi vediamo. eccoli qua pronti da infornare sono passate quasi quattro ore quindi la limitazione a un buon punto vado ad infornare ed eccoli qua dopo ogni circa 45 minuti li ho staccati perché li ho cotti tutti e tre insieme vedete si sono attaccati ecco perché c'è quell'apertura e solo perché li ho staccati bene direi che è molto bello ci vediamo al prossimo video ciao a tutti